2021. Doveva essere l'anno della riscossa per il mondo delle fiere. Dopo un 2020 terribile, con cancellazioni e spostamenti a causa della pandemia e delle sue conseguenze, si sperava che l'anno che verrà, come cantava Lucio Dalla, fosse ricco di opportunità. Invece no. Gli spostamenti delle fiere annullati nel 2020 hanno creato un ingorgo di date e sovrapposizione che costituirà una sorta di gioco al massacro per tutti, allestitori, espositori e visitatori. Ci avevamo provato, mercoledì 29 aprile, a capire chi era attirasse nel mondo degli eventi fieristici. La tavola rotonda, organizzata dal nostro gruppo editoriale, dal titolo Fiere Dalla Transizione alla Trasformazione, aveva avuto un successo clamoroso. 464 persone avevano assistito in diretta al webinar, oltre 4.700 le visualizzazioni sul nostro canale YouTube. L'evento B2B online più affollato d'Italia. Allora le certezze erano poche. Oggi sono di più, almeno sulle date del prossimo anno. E va a maggio 2021 la palma del mese più ingolfato di fiere. Alimentaria, la manifestazione che si doveva tenere dal 14 al 17 settembre a Barcellona, è stata spostata proprio nel mese di maggio, dal 17 al 20, in contemporanea con tutto food, che vedrà inoltre la concorrenza di PLMA, l'appuntamento annuale con le private label prevista ad Amsterdam per il 18 e il 19 maggio. Tre fiere nell'arco di quattro giorni. Un mese di fuoco, non dimentichiamocelo. Infatti all'inizio ci sarà Cibus Parma dal 4-7 maggio e, quasi in contemporanea, Mac Fruit a Rimini dal 4-7 maggio. Insomma, na Cambogia, come dicono a Roma. Buona giornata a tutti.